Stai ragionando? No, sto guardando che ho chiesto se era aperto, ma ti dico, fai il booking se ti vuoi fermare a dormire, quindi vuol dire che è aperto. Noi ci fermeremo anche a dormire? Una settimana fa. Noi ci fermeremo. Noi ci fermeremo. Noi ci fermo. Noi ci fermo. Noi ci fermo. Come va? Bene, bene. Adesso, ecco se c'è la stanchezza della fine, però l'emozione supera la fatica. Poi questa ferratina ti rigenera. Sì, bella. Eccolo giù. San Martino. Allora, qua dice dieci minuti. Direi che saranno dieci minuti ancora un pochino impegnativi, però si vede il tetto, quindi ci siamo. Diciamo che il momento non ce la faccio più. È quasi superato. È stata dura. Diciamo. 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 Eccolo qua. Finalmente l'abbiamo trovato. L'abbiamo chiamato, appunto, il velo della Madonna. perché qua con un po' di fascia si vede con la destra, il naso e il piede.